Hey, yo, what's up guys? Come state? Gian, io credo che tu abbia leggermente sbagliato il canale There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 Ciao a tutti, ragazzi, siamo qui tornati per fare un prank In poche parole ragazzi, siamo per andare io e mia madre Qui sotto, al furgone di mio padre In poche parole lo scherzo ragazzi consiste nel prendere questi post-it qui che abbiamo comprato prima Questi qua, che abbiamo comprato tipo 600 post-it E riempire tutta la campione del suo furgone con questi post-it qua Ragazzi, questo video si merita almeno 20.000 like perché non potete capire In questo momento lui è su da amici e il furgone sta qui sotto casa Quindi potrebbe da un momento all'altro mentre stiamo facendo il nostro prank Scendere giù e beccarci e illuminarci tutto Quindi dobbiamo essere veloci, silenziosi Certo, non contarsi anche urla E tutto questo, niente ragazzi, ci vediamo direttamente giù perché dobbiamo veramente sbicarci Mamma, mamma sei pronta per questo troll epico? Yes Finito male però, eh? No, no, benissimo Deve essere finito bene, raga Certo Perché se finisce male, finisce male per noi, non per lui Ciao, c'è Massimo No, scusa Senti, noi abbiamo un altro concentro come c'è Perché non poterlo in una cosa per me Raga, buongiorno Buongiorno a tutti Raga, in questo momento stiamo sposando la macchina Perché noi abbiamo detto a lui che appunto Siamo andando a prendere un gelato Quindi se dopo sta facendo e vede la macchina Ma non è andata a prendere gelato Quindi tutto programmato, tutto programmato Questo qui è il suo furgone Adesso noi entriamo qui dentro E sarà tutto strappiano di posti qui dentro Quindi, vai Tomasi, regali Il balcone suo è là sopra dei nostri amici Quindi c'è Tarzan che urla Quindi deve stare zitto Ok, ma siamo andati E' il lucchetto, madonna E mo E' mo' E' un buco, pedera Attenta Raga, in questo video Mia madre sta ripetendo di là Se questo video non raggiunge almeno 20.000 Vai che vi giuro Vi è bustito la faccia Ma Enrica dobbiamo mettere lì Alice, guarda come facendo Brava, così, così, così Poi ragazzi, per chiamarlo qui Andrò tipo sopra dei suoi amici E farò Bacori, è successo un casino Il furgone È aperto C'è il lucchetto, pittera Mi sai sentire il furgone Così ricorrerai Vedete tutto questo E Mamma, che cosa è questa? Una bella follia Cioè, regà, guardate Adesso abbiamo riempito Questa parte E quella cì Ragazzi, dovete ci aiutare Perché in due ci mettiamo la vita Se saremmo qua in 10-20 Avranno già fatto Abbiamo già finito Venite qua, le braccia A mettere like Ci stanno guardando Ma tu devi guardare Che non mi vengono Una ritardata No, tu Ma io non sono ritardata Cioè, no Vedi la data perché Hai fatto insieme a me Vabbè, che ti ho fatto a te Dici No, da che ripresi Sì, per me No Questa, ragazzi È quella che ha fatto io E questa è quella Che ho fatto io adesso La felicità di haters Guardate che abbiamo fatto Fino adesso Oddio Raga Questo è il risultato finale Cioè, porca miseria Ragazzi, abbiamo riempito Tutto il coso De post-it Ora entriamo qui dentro E gli limpo tutto quanto Il vetro qua davanti Aia, mi ha spaccato tutto Mamma Ma lo fai chiudere? Ma lo fai chiudere? Lo fai chiudere? Se lui lo chiamiamo E diciamo che Se sentiamo rumori Vedi queste cose qua Ti accorge No, mettiamolo Mettiamolo solo da sta parte Ok, ragazzi Mettiamo soltanto qui Ok Così, capito? Ok Ah, ho capito Che è? Un momento è morito Oh, mio Dio È Asia Che paura Ma dovrei che ho visto Un essere umano Ho detto no Ma che stai facendo A tutti i furgoni di macchina Che stai facendo Scusa La si vede La si vede Adesso ragazzi È arrivato il momento Di andarlo a chiamare E di dirgli Che abbiamo sentito I rumori dentro al furgone Lui verrà a controllare BAM BAKA BANG Trollato Mi dispiace Mio caro Massimini Mi dispiace veramente tanto Non puoi capire Sono troppo dispiaciuta Ora ragazzi Siamo in macchina Corriamo su da lui E diciamo I mostri Nel rumori Nel furgone Oh mio Dio Mamma Com'era buono il gelato Che siamo andati a prendere Vero? Buonissimo Si chiama gelato Al post È un gelato molto giallo Mi dicevano Era un po' Ehm Sapere un po' Sapere un po' di carta Sai Un po' di prank Sì Un po' di prank Un po' di Ehm Anche un pochino Di vendetta Da parte nostra Era una cosa Che sappiamo solo noi Sì Dai però Io ho paura Qua dentro ma Qua Via Sta lontana Mi sono allontanata Mi sono allontanata Guarda 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 la tribuna Ma donna C'è pure perso tempo Vabbè Chiamiamola Piccola vendetta Vabbè comunque Muda diverti A toglierli tutti No Mi dispiace Che la teneste voi Che che sono voi Vabbè allora guidi così Così Va guidà così Vabbè 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 Con i posti Sul volante Adesso anche Puglio La cabina Però Vabbè niente Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sapete Noi ci siamo 20 mila like Ragazzi Mi raccomando Stalkeratevi Su tutti quanti Sociali Nel link Sotto alla Iscrizione Scriviti Iscriviti